E' chiaro che in questi giorni sto riflettendo perché il modo di fare politica di De Luca e la mescolanza di figure con cui si sta accompagnando è un grande stimolo a fare questa campagna elettorale, però ci sono anche altri elementi che invece non mi stimolano per nulla ad impegnarmi, quindi è una decisione a cui devo ripensare e scioglierò questa riserva che è molto delicata perché ha una serie di ricadute anche sulla città e entro una settimana. C'è una parte della sinistra che non si sente rappresentata in De Luca, quindi è una parte se lei non dovesse essere il candidato pensa che si debba lavorare per un candidato? No, non mi fate parlare, parlerò fra una settimana, grazie.